ATTENZIONE STA PER COMINCIARE K-PRODUCTION Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Dragon Ball Z Kakarot La volta scorsa, come sappiamo, Goku è morto per colpa di Radish In realtà si è sacrificata assieme a lui E qua vediamo, mentre Goku percorre la strada del serpentone nell'altro mondo nella speranza di diventare più forte Piccolo cerca di svegliare, vabbè il potere nascosto Penso che stava scritto di Gohan Allora, come possiamo vedere? Una casita Noi siamo il piccolo Gohan Non mi piace molto Cerca cibo nel dintorno Erbe Attenzione, questo gioco invoglia molto alla droga Attenzione C'è qualche altra cosa che posso prendere, no? Oh Oh Il dinosauro Oh my E' buon Eccolo Si è salvato Come ha fatto a volare fino là? Ah, eh Ah, ecco Junior Palude di Blake Oh L'attacco speciale Cannone dell'anima speciale di piccole ore disponibile Attacchi speciali Avanzando alla storia potrai accedere a nuovi attacchi speciali Quando imparo un nuovo attacco durante la storia ho preso un campo di allenamento Non dimenticare di inserirlo All'attacco speciale All'attacco speciale All'attacco speciale All'attacco speciale All'attacco speciale Oh bello Mi piace Quindi stiamo in una palude Bellissimo Vediamo un po' la mappa Le pianure centrali Qui dovrebbe essere Dove abbiamo lasciato Gohan Si Si chiama così l'aria Eh, vabbè Facciamo un po' di zoom Si può fare Si Ok Oh, qui quindi c'è un corso di allenamento Ok Un attimo che Ha detto che devo potenziare il personaggio Devo vedere la sua griglia degli attacchi Mettiamo Il cannone dell'anima Si Rilascia l'aura caricata sotto fame di raggio devastante Consuma molta aura ma infligge danni enormi Ah ma non di più dell'onda esplosiva Ok Non possiamo per caso potenziare Vediamo Vediamo l'abilità di Junior No, servono sfere verdi Ok, servono sfere verdi In generale E anche sfere arcobaleno Per alcuni Per alcuni Ok Bene Allora buttiamoci Voglio vedere questo Oh Che bel tronco Vedi Nasconde qualcosa Che cos'è? Un percorso? Sfere temporale Sfere temporale Sono delle speciali sfere Z Che fanno apparire un mucchio di sfere Z Nei vicinanzi Quando vengono raccolte Possono far apparire anche delle sfere Z rare Quindi usa le tecniche Come la capriola E ribaltamento accelerato E come faccio? E se vabbè Non è che abbia capito molto Comunque questa è la parola Bella Bellissimo posto Le gazzelle Bellissima sta cosa Vabbè Vediamo un po' di sfere Non ce ne stanno qua Io la capriola E le altre cose Non è che le sappia Vabbè Qua Junior Si fa una corsa Ho visto il tipo Quello del torneo mondiale Comunque Dov'è che è? È di qua Oh È cattivo Junior Non essere cattivo Con il bambino Il piccolo Gohan Che quello C'ha quattro anni Non c'ha Non sei molto in forma? Intanto ho visto Un dinosauro Oh E questi? Beh è Gohan Qua sto andando piano Per prendere tutte le sfere Ragazzi E non fate caso Gohan sta di qua Ok A te Bellissima Bellissima Oh Distrutto in due volte Ok Ok Siamo arrivati Eh? Vabbè Fino a quando sono Questi robot del cacchio Me la vedo io Sconfiggi tutti i nemici Sconfiggi tutti i nemici Ok Sono tre Bella Fagora Ah così è È uno Mi sa che l'abbiamo fatto fuori Utilizzano Mamma mia Aspetta Colpo lampeggiante Oh il colpo lampeggiante Fallo Carica Aura Oh l'ho preso Va bene Ma questi erano solo i primi tre Lì ce ne sono altri Prima di andare però voglio potenziare un attimo il personaggio Sì perché schema attacchi speciali Adesso possiamo potenziare Il cannone dell'anima Ah non si può potenziare il livello 2 Che palle Raggiungi il livello 10 Invece il colpo lampeggiante Sì vero? Sì Perfetto Qua sta per raggiungere il livello 10 Qua non abbiamo abbastanza sfere Qua pure Ok Beh ho potenziato quell'attacco che fa con Oh Ok Ma la sta Cos'è che sta? Medaglia D Oh Dove cavolo sta? Dovrebbe stare Ah eccoli qua giù Quindi sono gruppi da tre su uno Quale è morto? Va bene Oh anche questo è morto Oh ma perché il colpo lampeggiante non fa robe? Vabbè io l'ho dato Ok Hai ottenuto Manco il letto Vabbè Boh io trovo difficoltoso Imparare a muovermi in aria Non so voi però Questo li posso prendere tutti Ok No Qua c'è qualcuno Oh eccoli Gli ultimi Vai Allora Allora Trove E' meno uno Vai Perfetto E' un altro Un altro E' fatto fuori Vai Usiamo di nuovo il cannone L'anima no Sbagliato Non utilizzo il potere Ah ok Anche questa è fatta fuori Una Sbagliato 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 Per questa volta gli darò una mano Ma gli dava la mela cos'è? Sì, gliela deve dare a Cerba Che Junior è cazziva, bravi, è un'esame Qua non c'è? Una volta arrivo a Musa, ma stai là Qui dove dovrebbe stare? No, questa è una medaglia Oh, ecco un albero Che nervi, mi trovo male Mi trovo male con i comandi L'albero che avevo visto, dov'è? Ah, ecco Non è a Cerba Non è a Cerba Dal Oh, questa c'è ne è una A terra stanno delle cose, ma vediamo Sono Erbe Dai, oh, ma perché voli in alto? Dai Ma io mi trovo male, ma io non lo so Mina, queste sono tutte mille normali Poi ci sta il curso di allenamento Oh no Roboteschio di tipo 2 E' eliminato Io comunque mi sto impappinando Cioè, queste mele per Gohan Forse è qua? Ma dove? Oh In questa zona Vediamo Mela, eh Sono mele buone Questa Ma una ne ho trovato Solo Hai capito? Junior aveva fatto tutta sta fatica Per trovare le mele A Cerbe Che lui non doveva farla fare Bene Dai Diamo gli ste mele Oh, è notte Oh, è notte Eh, ecco lei miina Oh, è notte No 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 Ok, questo è un bel problema Gohan, scimione Madonna Madonna Cosa sta facendo? Oh, io ma mi incazzo Dai Dai, tanti ma... Merda Devo caricare No, ma che cavolo Oh, l'ho colpito Bene Mamma mia Quante sfera Quante sfera ha dato comunque Oh, l'ho colpito Oh, l'ho colpito Oh, l'ho colpito Oh, l'ho colpito Ah, l'ho colpito Ah, l'ho colpito Ah, ecco Come fottarsene della luna In un attimo Cioè, rendetevi conto Che ha distrutto la luna Dalla terra Ah, l'ho colpito Ah, qua però c'è il di sotto Dei pantaloni Ah, l'ho colpito Ah, l'ho colpito Oh. Che poi il fatto di creare la spada. Oh vabbè. Bene. Credo che questo si possa considerare come un altro attacco boss. Un altro combattimento boss. Oh. Sono passati diversi mesi da quando Piccolo ha abbandonato Gohan se stesso. Al momento non puoi volare. bene ragazzi io direi che per questo video possiamo terminare qui avete visto la prima parte del diciamo dell'allenamento di Gohan e finisce qua questo video